My Home, My Destiny, anticipazioni dal 24 al 26 luglio, una puntata emozionante che vedrà i documenti del divorzio tra Zainep e Maddy e un colpo di scena inaspettato che coinvolgerà proprio il nostro protagonista. Maddy e Zainep guardano la foto in cui ci sono Faruk e Zainep che si baciano. Marito e moglie sono glaciali, Zainep non sa cosa dire e Maddy esce dalla stanza senza proferire una parola. Tornato in salotto dagli altri, Maddy, sempre in silenzio, fa capire alla madre e alla sorella che la serata è terminata lì e che è ora di tornare a casa. Sull'uscio della porta, Maddy si rivolge direttamente a Nermin, la ringrazia del tempo concesso a lui e alla sua famiglia, visto che loro non si conoscono e appartengono a due culture diverse, e aggiunge che nessuno è come sembra. Il discorso di Maddy è un chiaro riferimento alla bugia di Zainep su Faruk, bugia assecondata anche da Nermin, che ha confermato che Faruk fosse il fratellastro di Zainep. Maddy, sempre in silenzio e pensieroso, accompagna tutti, compresa Zainep, a casa. Qui, lei cerca di parlare con Maddy, vuole spiegargli perché gli ha nascosto la vera identità di Faruk. Maddy però non ha alcuna intenzione di ascoltarla, si prepara un borsone ed è deciso ad andarsene in officina. Non serve a nulla il fatto che Zainep gli dica che stava per confessargli tutto e che il suo è stato solo un errore dettato dalla paura. Maddy non tollera le bugie, e ancor meno quelle di sua moglie. Maddy spiega in maniera risoluta a Zainep che lui si è sentito profondamente tradito. Non solo lei gli ha mentito, anche entrambe le sue famiglie hanno portato avanti questa bugia, nonostante lui sia andato a casa della famiglia adottiva con le migliori intenzioni. Lui ha sopportato questa umiliazione perché rispetta e tiene a Zainep, ma adesso si domanda se ne valga veramente la pena. Zainep cerca di discolparsi dicendo che niente era in suo potere, che si è trovata inerme ed impaurita da questa situazione. Maddy però non accetta di essere considerato un uomo violento di cui avere paura. Decide quindi di andare in officina e lasciare Zainep a casa sola. Poco dopo, in un ristorante, Maddy è con suo cugino e gli racconta tutto. Subito lui vorrebbe vendicarsi di Farouk, l'uomo che ha ostacolato il matrimonio del suo caro Maddy e Zainep. Maddy però lo trattiene, come possono prendersela con Farouk quando lui è solo un uomo alla quale è stata portata via la donna che ama? Il punto di Maddy è quello di lasciare stare Farouk, ma anzi di cercare di comprenderlo. A casa, Zainep decide di confessare tutto alla famiglia di Maddy. La madre incolpa soprattutto Sakine della bugia su Farouk e spiega che Zainep aveva un rapporto con la famiglia che non può basarsi sulle bugie e che ha ancora tempo per lavorare sul suo matrimonio e sul rapporto con loro. Sakine cerca di difendersi dalle accuse, dicendo che tutto ciò che ha fatto lo ha fatto solo per difendere Zainep e Maddy, ma le sue parole non hanno alcun effetto sulla famiglia di Maddy, dimostrano solo la sua cattiva fede. Da sole, in camera, Sakine e Zainep si confrontano. Per Sakine è quasi una vittoria aver ricevuto solo una sgridata dalla famiglia di Maddy. Zainep invece è mortificata del fatto di aver mentito a tutti ed essere diventata una persona che causa sofferenza al prossimo. La freddezza, calcolatrice di Sakine, fa arrabbiare Zainep che, per la seconda volta, rifiuta il confronto con la madre e la caccia dalla stanza. Maddy, andato in officina per stare lontano da casa, passa la notte a riflettere sull'accaduto, fino all'alba, quando arriva Kibrit che si rende subito conto che qualcosa non va ed è ben disposta a stare vicino a Maddy che considera un fratello maggiore. Maddy passa la giornata in officina, sempre convinto di non voler tornare a casa. All'officina arriva anche il cugino Nuth, in pensiero per Maddy e per il suo futuro con Zainep. È adesso che Maddy mette in chiaro la sua decisione. Il matrimonio tra lui e Zainep è finito e non può funzionare. Il cugino lo esorta a riflettere e soprattutto a parlarne con Zainep, ma Maddy è convinto del fatto che lei lo abbia sposato solo per non deludere Sakine e crede fermamente che sia ancora innamorata di Farouk. L'unica soluzione, quindi, è il divorzio. In segno di pace, Zainep insieme a Demin porta la colazione in officina a Maddy e, appena arrivata, ascolta la conversazione tra suo marito e il cugino, in cui Maddy ribadisce il fatto di voler divorziare. È così che Zainep viene a sapere che suo marito ha deciso di mettere fine al loro matrimonio farsa. Zainep, quindi, capisce quanto abbia ferito Maddy. I sensi di colpa la assalgono e non può fare altro che andarsene dall'officina. Emin, però, la trattiene e cerca di farle capire che questa per lei è un'opportunità. Se Maddy vuole il divorzio, per Zainep potrebbe essere una liberazione e non un fallimento. Emin esorta Zainep a prendere in mano la sua vita. Può cogliere la palla al balzo e divorziare. L'unica cosa che potrebbe fermarla sarebbe un sentimento. Se Zainep è innamorata di Maddy, allora che rimanga con lui. Ma se non lo è, può andarsene e vivere la sua vita. Zainep, determinata, va a parlare con Maddy in officina. Si scusa di nuovo per le bugie su Faruk. Scuse di cui Maddy è stufo. Non si cancella il torto subito ogni qualvolta che si chiede scusa. Chiede quindi una spiegazione valida per tutte le bugie dette a lui e alla sua famiglia. È così un uomo indegno di rispetto da meritarsi questo trattamento? Zainep non sa cosa rispondere. È inerme davanti al dolore di Maddy e va via per andare in università. Forse ha ragione Emin. Forse deve solo rinunciare a questo matrimonio. Contemporaneamente, Maddy incarica Kibrit di raggiungere Zainep alla fermata del bus per darle dei soldi per la giornata. Kibrit così raggiunge Zainep, ma è lei che è già salita sul bus e non si accorge della presenza della ragazza che è salita dietro a lei. Sul bus sale all'improvviso Faruk che aveva seguito Zainep. Faruk spiega a Zainep che Nermin gli ha raccontato tutto e adesso finalmente ha capito perché Zainep ha fatto quello che ha fatto. Inoltre, le dice che è pronto a partire per Londra la sera stessa con lei. Ha praticamente tutto, biglietti e passaporti. Kibrit vede e sente tutta la scena senza che Zainep se ne accorga. Kibrit vede sia Faruk che Zainep scendere dal bus ma andare in direzioni opposte. È sconvolta, non sa cosa fare riguardo a quello che ha visto e sentito. Zainep si precipita a casa di Nermin per chiedere spiegazioni. Perché Nermin ha raccontato tutto a Faruk? Gli ha dato il suo passaporto e hanno organizzato questa fuga? Nermin le confessa che sia lei che Ekrem e Faruk stanno cercando di farla rinsavire. Si è rinchiusa in un matrimonio che non voleva solo per far felice Sakine. Questa cosa non è sana e non è tollerabile. Zainep è veramente stanca del fatto che tutti continuino a dirle cosa sia giusto e cosa fare. Lei sente di non avere voce in capitolo e di essere trattata come una bambina da tutti. Nermin però, da parte sua, non può lasciare che tutti i suoi insegnamenti, tutta l'istruzione e la cultura di cui Zainep si è nutrita in questi anni siano gettati al vento per colpa di un uomo violento e retrogrado che la vuole segregare nel ruolo di moglie casalinga. Anche se Zainep cerca di spiegare a Nermin che Meti non è un uomo violento e retrogrado ma che anzi è lei ad aver sbagliato e a sentirsi in colpa, a Nermin non importa perché lei pensa solo che Sakine abbia spinto Zainep a sposare Meti e che poi lui se ne sia approfittato. Nermin non può più stare a guardare, deve salvare sua figlia. Zainep non sarà mai accettata da Meti né tantomeno dalla sua famiglia. Nermin l'esorta quindi a scappare con Faruk, questa è la sua ultima possibilità. Ancora scossa per tutti i consigli ricevuti, Zainep va al negozio dalla cugina Emine e le racconta della proposta di scappare a Londra fatta le da Faruk. Emine le dice di accettare, questo risolverà tutti i suoi problemi, potrà studiare e lavorare all'estero e andrà finalmente via da quel quartiere libera dal gioco manipolatorio di Sakine e dal giudizio severo della famiglia di Meti. Zainep è sconvolta dalle parole di Emine che la incita alla fuga. Emine dal canto suo ribadisce il fatto che per una volta Zainep deve prendersi cura di se stessa e non sacrificarsi per il bene di qualcun altro. Questa è la sua occasione per riappropriarsi della sua libertà e non ha motivi di rimanere incastrata in quel matrimonio, tranne uno se provasse dei sentimenti per Meti. Zainep torna a casa e aspetta Meti in camera. I due devono parlare. Senza troppi giri di parole Meti arriva al sodo. Entrambi non si sono adattati al matrimonio, né tantomeno l'uno all'altra. Nulla ha funzionato e l'unica soluzione è il divorzio, adesso che entrambi possono affrontarlo senza spessarsi il cuore a vicenda. Meti lascia a Zainep le chiavi di una casa per Sakine e Decrem, in cui la coppia potrà vivere per almeno un anno. Le dice che anche lei può vivere in quella casa, sempre se non voglia andarsene e lasciare il quartiere o la città. È il momento di concretizzare la decisione di Meti. Infatti lui ha con sé il documento di richiesta di divorzio, che ha già firmato. La decisione finale quindi spetta solo a Zainep. Se anche lei firmerà il documento, il divorzio avverrà, altrimenti lei e Meti rimarranno sposati. Zainep e Meti si danno appuntamenti in officina, così per poter scoprire insieme se Zainep abbia o meno firmato il documento del divorzio. Arrivati in officina, Meti guarda finalmente il documento. Entrambi lo hanno firmato, il divorzio è ufficializzato e ognuno è libero di andare per la propria strada. Poi Meti rimane in officina per schiarirsi le idee e gettarsi sul lavoro. All'improvviso però viene raggiunto da alcune volanti della polizia e da alcuni agenti che gli rivolgono accuse gravissime. È stata avviata infatti un'inchiesta contro di lui per abusi su minori e sfruttamento del lavoro minorile. I poliziotti insieme ai servizi sociali dovranno quindi portare via Kribit e Yaldiz di cui Meti si prende cura ospitandoli in officina e insegnandogli a lavorare con i motori. I due ragazzini vengono trascinati via con la forza. Loro non vorrebbero assolutamente lasciare Meti che considerano un fratello maggiore e un padre. Anche lui non riesce a trattenersi e vedendo i suoi ragazzi tra le lacrime oppone resistenza alla polizia cercando con tutte le sue forze di difendere Kibrit e Yaldiz e alla fine Meti viene arrestato. Contemporaneamente Zainep si trova all'aeroporto con Faruk ignara di tutto ciò che sta accadendo in officina. Zainep davanti alla psichiatra racconta che ha sempre confuso il prendersi cura di se stessa con l'egoismo prendendo delle decisioni per il suo bene infatti ha sempre pensato di peccare di egoismo come il padre e la sorella. La verità è che lei non è mai stata in grado di dire di no anche se si era ripromessa di decidere da sola del proprio destino. Terminano così queste anticipazioni di My Home, My Destiny cosa ne sarà di Meti arrestato dalla polizia e Zainep tornerà indietro dall'aeroporto? Io sono Stefania, vi invito a iscrivervi al mio canale Stefania Serie TV e a sentirci nei commenti per parlare insieme di queste emozionanti puntate.